Lo so che non è facile fare scappare uno dal carcere, però se tu mi aiuti, sono sicuro che ci riusciremo. Dai, salvi. O hai paura? No, non ho paura. Lo facciamo, il salto? Salta, non ho paura. Nicky. Nicky, alzati. Nicky, rispondi. Cos'hai? Nicky, apri gli occhi. Questa volta ci sei cascato tu. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, Monica. Ciao. Giulia, hai parlato con Sergio? Gli hanno dato il permesso. No. Ancora non ce lo lasciano vedere. Io non so più cosa fare. Ma chi è quello con tuo figlio? Nicky! Nicky! Allora, mi aiuti con mio padre? Ho detto che ti posso pagare. Nicky! Lo farai scappare? Non si può scappare da quel carcere. Se vuoi essere forte, non farti illusioni. Nicky! Scendi. Chi era quel ragazzo? Non so neanche come si chiama. È uno che mi ha dato un passaggio con la moto, mamma. Non devi chiedere passaggio agli sconosciuti, ma... Giulia! Ha appena telefonato l'avvocato. Hanno autorizzato le visite a Sergio. Hai sentito? Andiamo a trovare papà. Eh? Ok. Vi aspetta qui Scusi, ma non andiamo in parlatorio? No, al detenuto Sorrentino è stato concesso un trattamento speciale Papà! 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 Giulia! Ciao Rocco! Ciao! Tu non lo sai, ma ho una bella sorpresa per te Vedi là? Va a guardare cosa c'è Guarda ciò! Tu non lo so Tu non ne so Tu non ora pelle